Di nuovo buongiorno a tutti, Serie B, Spezia e Mantova vincono in casa le loro partite, lo Spezia molto bene, tra l'altro 4-2, Mantova invece 1-0, risalta moltissimo la vittoria in trasferta sul difficilissimo campo di Frosinone che è una sicuramente delle favorite di questa Serie B, vince 3-0 il Bari, un Bari in ripresa, aveva già vinto la settimana scorsa, ha vinto anche questa domenica ed è una risalita per una società che ha bisogno e ha fame di ritornare tra le grandi. Quindi una Serie B, come vi avevo detto, livellata, una Serie B che sicuramente quest'anno, ripeto, fino all'ultima giornata non avrà una vera dominatrice, non avrà chiara la situazione. Comunque noi siamo contenti di vedere che la Serie B si sia alzata di livello. Vi ringrazio sempre per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra in descrizione gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!